Fuochi d'artificio in campo, pochi spettatori sugli spalti. Festival del gol al Monterisi nel derby tra Udace Cerignola e Gravina, penultimo atto della regular season del campionato di Serie D. I padroni di casa, alla loro ultima esibizione interna della stagione e al primo risultato utile con Vincenzo Silvestri da capo allenatore, andranno ai play-off da quinta classificata. I murgiani, in formazione rimaneggiata per le assenze di Loliva, Gargiulo e Cacace, non sfruttano invece due volte una situazione di doppio vantaggio, ma dimostrano, pur non potendo più ambire un posto tra le prime cinque, di voler comunque onorare il campionato sino al termine. Gara poco vivace nella prima frazione, addirittura scoppiettante nel corso della ripresa. Parte bene il Cerignola, Lullo disinnesca in apertura, il tentativo diagonale di Morra, Sante Rosso alza troppo la mira. La replica degli ospiti, Balsano conclude centralmente, Leonetti prova a colpire con la soluzione in lob, ma Raolo se la cava con qualche imbarazzo di troppo. Ultimo, quarto d'ora della prima frazione, Carannante per gli Ofantini non è preciso nella conclusione, Morra mette in mezzo un pallone invitante, ma la difesa dei murgiani riesce a cavarsela in qualche maniera. Dalla parte opposta, invece, sono troppo deboli per poter incidere il colpo di testa di Leonetti e il successivo tentativo di Molinari. Quest'ultimo, ad ogni modo, si riscatta nel recupero trovando il gol del vantaggio su punizione con la evidente complicità del portiere di casa. 1-0 per la formazione di Dudu all'intervallo. La ripresa riserva tanti gol e numerose emozioni e si apre con il raddoppio del Gravina. Bella e soprattutto efficace, la soluzione incrociata con cui Balsano non lascia scampo a Maraolo. Il Cerignola, nonostante il doppio svantaggio, non alza però bandiera bianca e torna immediatamente in carreggiata. Longo, infatti, si procura e trasforma il rigore che riapre ufficialmente la partita. Al decimo minuto, però, è il neoentrato Carruso con una perfetta esecuzione a riportare gli ospiti di nuovo sul più due. Partita davvero scoppiettante, partita che torna subito in bilico. Morra sfiora il gol d'autore in acrobazia Carmine Marinaro, altro neoentrato, firma la gemma sul calcio piazzato e riporta in scia il Cerignola. 3-2, ancora emozioni. Carruso è scatenato ma questa volta sbaglia la mira per il Gravina. Idem ambida poco dopo, sempre per gli ospiti. Non perdona dalla parte opposta alla mezz'ora a Longo. Il suo diagonale termina nel sacco e vale la nuova parità. Il Cerignola prova a vincere la migliore occasione. Capita a Morra, che prima trova addirittura il salvataggio del suo compagno di squadra a Longo, poi esalta le qualità del portiere ospite Lullo. Finisce così 3-3 una partita tutt'altro che noiosa. Segnali di risveglio degli Ufantini in chiave playoff. Gravina, bravo ma al tempo stesso ancora una volta in Genova.